Buon pomeriggio, ben trovati da Moversi in Toscana da Mauro. Ciutini ed è il maltempo a condizionare ancora la viabilità su tutta la nostra regione. In A1 ci sono due chilometri di coda per la regolazione del traffico con chiusura a intermittenza nel tratto tra Firenze-Scandici e Firenze-Nord in direzione Bologna. Coda anche tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze. In A11 ne vischiano il tratto compreso tra Firenze-Peretola e Pisa-Nord. Ricordo sempre in A11 la chiusura ai mezzi pesanti tra lo svincolo A11 e lo svincolo A12. E proprio in A12 la Genova-Rosignano chiusura ai mezzi pesanti prevista per neve tra Sestri, Levante e Livorno. Passiamo alla Cisa, la statale 62. Anche qui il traffico è lento per la neve tra il passo della Cisa e l'incrocio con Parma. È tutto, Moversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!